Ciao e benvenuto su Psynel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 132esima puntata di questo podcast, puntata estiva. Oggi parliamo di neuroscienze. Se segui Psynel sai che sin dai suoi albori ha dichiarato di seguire questo filone di studi, non tanto perché va di moda ma perché sono convinto che possano apportare grandi benefici sia alla psicologia che alla crescita personale. Non tutti sono d'accordo ovviamente. Vediamo insieme questo affascinante mondo. Preparati perché il podcast di oggi ti mostrerà qualcosa che probabilmente non sai sulle neuroscienze e su te stesso. Bene, iniziamo! Allora, come è andata questa settimana? Anche tu stai soffrendo il caldo come sta succedendo qui a Padova, qui il tempo è un po' pazzariello. Innanzitutto qui fa davvero molto caldo, ok? Mettiamo da parte queste chiacchiere da bar sulla meteopatia. Ci ho fatto da poco un video su Snapchat. Per cui voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono su Snapchat. Non sono tante, però è già qualcosa. È molto interessante come strumento. Cercami su Snapchat. Il mio nome è Psynel. Bene, voglio ringraziare tutte le persone che hanno messo mi piace su iTunes. Non so se in questi giorni stai andando a dare un'occhiata insieme al mio amico Gabriele, del quale ho fatto uno Snapchat l'altra sera, e lui mi faceva spesso notare, appunto, che da quando ho cambiato il logo di Psynel, ecco che improvvisamente siamo sempre in cima alle classifiche. Ok? Non siamo tra i primi dieci, ma siamo sempre tra i primi venti nella classifica nazionale. E questo grazie ai tuoi mi piace, grazie alle tue review che hanno superato i 200. 200 mi piace e siamo a 140, non mi ricordo, review. Per cui se vuoi sostenere il mio lavoro, se vuoi sostenere Psynel, vieni su iTunes, clicca su mi piace e lascia la tua review a 5 stelle. È un piccolo gesto che può darmi un grande contributo. Se mi vuoi seguire con le live di Facebook, vieni a cercarmi sulla fanpage di Psicologia Neurolinguistica, che ha il mio nome purtroppo Gennaro Romagnoli. E cos'altro dirti? Ah sì, se vuoi ricevere il quaderno degli esercizi, iscriviti alla mailing list, al banner che trovi in alto a destra nel blog di Psicologia Neurolinguistica.net. Allora, per prima cosa, lasciami dire che non riuscirò a ricoprire tutto ciò che c'è da dire su questo argomento, per cui nel caso tu abbia già delle perplessità su questo tema o pensi di avere una risposta in tasca, seguimi fino alla fine e poi fammi sapere che cosa ne pensi. Allora, partirò dicendoti che nella scienza il termine neuroscienze è molto recente, tanto che si può dire non esista un tema unico in questo campo, ma molti modi di vederlo, molte neuroscienze. Cercherò di semplificare al massimo dicendoti che inizialmente la cosa più interessante era capire se era davvero il cervello la centrale di controllo. E' questo che fa le neuroscienze, studiano la biologia del cervello, diciamo così, l'anatomo-fisiologia dell'attività psichica. Come è fatto il nostro cervello, anatomia, fisiologia come funziona e ovviamente dell'attività psichica, cioè di come pensiamo. Quindi una delle prime sfide è stato cercare di capire dove fosse questa centrale di controllo. E visto che quando uno perdeva un braccio, di conseguenza non perdeva la memoria, chi studiava l'essere umano, i primi medici, di certo si erano resi conto velocemente che era nella testa questa centrale di controllo. Lo stesso Freud sognava una psicologia tutta basata su correlati neurofisiologici, essendo stato lui un neurofisiologo. Cioè studiava come funzionava il sistema nervoso. Per quanto ne sapessero allora, in realtà anche molte delle cantonate freudiane sono prese dal suo modello fisiologico. Lui credeva che il neurone scaricasse da zero, cioè che si scaricasse completamente. Invece sappiamo oggi che i neuroni restano sempre un po' carichi ma in negativo. Quindi attraverso l'idea di una scarica viene fuori la pulsione. Quindi inutile starti a raccontare che fino a qualche secolo fa si era quasi convinti che la centrale di tutto fosse, bravo, nel cuore. Tanto che ancora oggi diciamo metterci il cuore, essere, fare qualcosa a cuore aperto ed usiamo termini che derivano proprio da quel retroterra. Una volta che abbiamo individuato un pianeta, una nuova terra bisogna iniziare ad esplorarla e cercare di comprenderne la geografia, cioè le varie zone in base alle diverse funzioni. Così ormai quasi cento anni fa tutta la neocorteccia è stata mappata in zone o aree, le famose aree di Brodman che sono più di 50. E via via che questi studi sono andati avanti si sono creati due schieramenti. I localizzazionisti, cioè quelli che erano interessati a capire in quale parte o zona del cervello ci fossero quelle cose, cioè dove sta la memoria di lavoro, dove stanno le emozioni, contro gli olisti, quelli che vedono il cervello come un organo complesso ed unico che funziona per connessione. Il connettoma, una volta ne abbiamo anche già parlato. Ok, non sto a menartela troppo con questa teoria perché la domanda che tutti si fanno, anche chi non sa proprio niente di queste cose, suona più o meno così. E lo faccio dire al mio psinellino di fiducia. Sapere dove risiede l'area delle emozioni o la zona emotiva, a cosa mi serve? Non credo che possa servire alla mia gestione delle emozioni, sbaglio Genna? No, non sbaglia affatto. Sapere dove si trova può essere utile ad un neurochirurgo o ai medici per comprendere meglio il suo funzionamento, ma a noi appassionati di psicologia e crescita personale non è per nulla interessante per noi. Ma in realtà c'è qualcosa di interessante, qualcosa a cui poco si pensa. Si vedono troppo spesso persone ammonire neuroscienziati di riduzionismo scientifico, ma mica tutti sono così. Ti invito a leggere e vedere ad esempio Vittorio Gallese per capire come le neuroscienze possano dare un super sostegno alla psicologia e di conseguenza anche alla crescita personale. lo metterò sicuramente all'interno del post. Ciò che è utile per noi non è la zona, la localizzazione, ma la sua funzione. Ad esempio, sappiamo da tempo che in situazioni di stimoli ambigui, cioè quando guardi una figura senza senso, come una nuvola oppure un'ombra strana, tendiamo a vedere delle figure animate, più spesso ancora dei volti umani. Ti è mai capitato? Ti è mai capitato di guardare una mattonella in casa e vedere una faccia? Tranquillo, sei in ottima compagnia perché tutti tendiamo a vedere volti umani e figure umane in situazioni ambigue. Perché siamo tutti dotati di un'area del cervello, o meglio di una funzione del cervello, più o meno indipendente, deputata al riconoscimento dei volti. Va bene Genna, ma questo a che cosa mi serve? Beh, per prima cosa devi sapere che questo aspetto non era sfuggito ai pensatori e agli psicologi del passato. C'era chi pensava fossero proiezioni dell'inconscio, chi le interpretava in base alla sessualità e chi in chiave mistica, un angelo, un demone, un fantasma. A quanto pare oggi sappiamo che se quell'area viene danneggiata, se quella funzione viene danneggiata, non riesci più a vedere nessun tipo di volto e neanche a riconoscere quelli che già conosci, ha un nome un po' strano, si chiama prosopo agnosia. E la domanda successiva potrebbe essere perché tendiamo a vedere delle figure umane? Bene, molto probabilmente perché è stato vantaggioso per la nostra sopravvivenza. Ancora oggi, se ti aggiri per un quartiere malfamato o in una foresta di notte, riuscire ad individuare i volti nascosti nella penombra potrebbe salvarti la vita. Quindi in qualche modo, facendo ricorso alla teoria evoluzionista, si può spiegare questa funzione. Ed il conoscerla ti rende maggiormente consapevole di come sei fatto. E come sai, per Psynel, crescita personale fa rima con consapevolezza, con il famoso conosci te stesso. Quindi le neuroscienze, quando si occupano di funzioni, riescono a dare un vero e proprio apporto, contributo alle scienze dello spirito, alla psicologia, alla crescita personale e anche alla filosofia. Oggi ci sono molti filosofi che studiano le neuroscienze. Non a caso qualche mese fa, anzi qualche anno fa, ho trovato un mio amico, un professore di filosofia qui a Padova, nella busta, nel sacchetto, aveva un libro di Rizzolatti sui neuroni e specchio. Appunto, pensa ai neuroni e specchio. Lo sappiamo da secoli che gli esseri umani tendono a rispecchiarsi, ad imitarsi, a modellarsi. Eppure una cosa è cercare di seguire le centinaia di teorie sul perché accade questo, ed un'altra invece è sapere che esiste un sistema biologico a farlo. Ed anzi, studiando a fondo questo sistema, si comprende che non si tratta solo di imitazione, ma ad esempio di sintonizzazione sulle intenzioni. Lo so, magari ti sembra roba per specialisti, ma è davvero incredibile. E so che i fenomenologi, quindi caro se sei un filosofo, so che qualcuno c'era già arrivato, ma ancora una volta siamo davanti non alla verità, ma ad una tessera del puzzle, o puzzle. È un puzzle infinito a cui ogni scienziato, ogni filosofo, dà un piccolo contributo. Non si tratta di arrivare da qualche parte, ma si tratta di guardarsi attorno durante questo viaggio, cercando di goderselo. Perché tanto la meta è il viaggio stesso, come diciamo spesso. Ok, scusami, sarà il caldo, ma sto iniziando davvero a delirare. Ok ragazzi, ho una super risorsa per te, per capire meglio questo concetto. Un video di Carlo Umiltà, uno dei maggiori esperti italiani in questo campo, e probabilmente lo inserirò all'interno del post. E sarà approfondito, ovviamente, anche all'interno del quaderno degli esercizi, dove troverai un sacco di altre risorse che ti aiuteranno a comprendere questo sottile campo di indagini. Bene, riassumendo, si tratta di non vedere tanto le neuroscienze come una sorta di nemico della psicologia, come una specie di riduzionismo, ma soprattutto di vederle come un contributo che può ampliare quella conoscenza, che chiamiamo conoscenza dell'essere umano, le scienze umane. Hai mai sentito la parabola dei monaci ciechi e dell'elefante? Qualcosa del genere? No, Genna, io non l'ho mai sentita. Dai, raccontamela. E va bene, anche se in realtà non ti credo, perché l'ho raccontata un sacco di volte. Allora, non voglio raccontartela tutta, magari te la metto nel quaderno degli esercizi. Insomma, alcuni saggi continuavano a litigare tra di loro, perché ognuno era convinto di avere la ragione in tasca. Così il più saggio di tutti li benda e li invita ad esaminare un oggetto, un animale, un elefante. Ovviamente così bendati, ognuno dà una propria interpretazione di ciò che può percepire solo con il tatto. C'è chi afferma di trovarsi davanti a due colonne, chi davanti ad un muro, chi davanti ad un muro che si muove. Insomma, anche questa volta ognuno di questi saggi possedeva solo un pezzetto della verità. Ma quando si sono scambiati i posti ed ognuno è iniziato ad accogliere il punto di vista dell'altro, è diventato sempre più evidente che l'elefante appare quando ci sono più modi per vederlo, anche se i monaci sono bendati, quindi ciechi. Ok, questa è la versione ultra short per dirti che le neorescenze non sono fatte solo di riduzionismi, cioè quelli che dicono che tu sei quei neuroni che scaricano nella tua testa, quelle sostanze chimiche, che tu sei i tuoi ormoni o, peggio, i geni che determinano i tuoi neuroni. Un altro esempio molto calzante è quello del blackout emotivo, descritto da Daniel Goleman nel suo libro Intelligenza emotiva. Anche lì Goleman usa le neuroscienze come una specie di metafora per farci capire che esiste una sorta di centrale che può andare in tilt, la amigdala per la precisione. Sentiamo e pensiamo da millenni di avere più parti o più funzioni, dalla auriga di Platone con i suoi cavalli, non so se è presente i due cavalli, quello nero, quello bianco e il cocchiere, fino a Freud con le sue topiche, cioè col classico es, io e superio, ovviamente prese dall'auriga di Platone. Le neuroscienze ci mostrano in parte che queste funzioni hanno un vero senso, non si tratta di favolette, ma di qualcosa che è realmente dentro di noi e potrebbe essere molto utile conoscere come funzionano. Ok Genna, ma mica mi devo mettere a conoscere le parti del cervello, diventare un esperto, un anatomista? Beh certo che no, voglio solo mostrarti che quando sei davanti a qualche studio sulle neuroscienze potresti scoprire qualcosa di importante su te stesso, soprattutto se ti concentri sulle funzioni. E indovina perché quando conosci una funzione puoi rafforzarla, puoi migliorarla, puoi ottimizzarla. Ecco, quando ascolti le funzioni descritte dalle neuroscienze ricordati sempre che si tratta di, che non si tratta di verità assolute, è solo un pezzetto di quell'elefante. Purtroppo per motivi sia giornalistici, a volte per cattiva volontà, di chi diffonde e fa ricerca, ci troviamo davanti a ricerche davvero ridicole. Evviva, abbiamo scoperto l'area della volontà! In realtà il nostro cervello è davvero qualcosa di straordinario. Fra le varie figate delle neuroscienze non posso non citarti la neuroplasticità, la prova scientifica del fatto che quando ti alleni a fare qualcosa il tuo cervello cambia e si adatta e cresce e funziona proprio come un muscolo. Sì, in realtà formi neuroni in tutte le età che creano nuove reti e questo ti consente di diventare sempre più bravo a fare qualcosa. Questo è stato talmente studiato che oggi sappiamo anche che, a furia di usare certi circuiti, questi aumentano la loro quantità di mielina che li circonda, rendendoli anche 3000 volte più rapidi di quelli meno utilizzati. La mielina è una sorta di cavo isolante che nutre e ricopre i neuroni e che gli consente di sparare più velocemente possibile. Se conosci un po' l'elettrotecnica sai che senza il cavo isolante il segnale viene un po' disperso, lo stesso avviene all'interno del nostro cervello. Quando impari a fare qualcosa di nuovo, prima crei delle nuove reti neuronali non mielinizzate, quindi molto lente. E se insisti invece con la pratica, questo inizia a creare degli strati di mielina, rendendo quei nuovi circuiti anche 3000 volte più rapidi. Ok, non vorrei farti perdere con tutti questi dettagli tecnici, ma devi sapere che da qualche decennio a questa parte possiamo letteralmente guardare un cervello vivo in funzione. Non è una roba da poco, si poteva solo aprire la testa e guardarci dentro fino a poco fa. Per cui si tratta davvero di qualcosa che ci porterà avanti anche nella psicologia e anche nella crescita personale. Evita di temere che le tue idee, le tue teorie sul mondo vengano distrutte da questa tendenza alla realtà, a guardare la biologia. Perché anche i biologi più attenti, anche gli scienziati più, potremmo dire, concreti e biologisti, si stanno arrendendo al fatto che tra mente e cervello ci sono delle correlazioni, ok, la mente sono i nostri pensieri che non possono essere ridotti e spiegati dalla funzione elettrica del cervello, e che questi collegamenti potranno renderci sempre più chiara la ricerca scientifica del futuro all'interno della psicologia e di conseguenza anche della crescita personale. Ok, credo di aver parlato fin troppo per la nostra versione estiva e anche per il tipo di argomento che ho scelto. Sono davvero convinto che queste neuroscienze possono aiutarci anche nella crescita personale e cercherò un po' di riassumere per punti tra poco questi aspetti. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di Psynel. Primo, conosci te stesso. Immagina che arrivi un tizio misterioso e ti regali un'automobile. Unico problema è che questa è davvero strana, tuttavia qualcosa te la ricorda. Ha un volante, ha dei pedali, ma sono molto diversi. Allora cosa fai? Inizi a provare. Schiacci di lì, giri di là e provi a vedere come risponde questa macchina. Puoi, insomma, per prove ed errori, cercare di capire come guidare. Se la macchina però è troppo strana, avrai bisogno di un libretto di istruzioni. Più ne sai delle funzioni di quell'auto, è meglio potrai disporre di quel mezzo. Ecco uno degli aspetti più importanti delle neuroscienze. Se conosci ad esempio i neuroni specchio, sai perché ti comporti in un certo modo. Se conosci appunto il fatto che riconosciamo i volti, riconosce anche questo aspetto. Secondo, è una metafora. Molti mi diranno, ma Genna, ma ti rendi conto che sono solo metafore? Bene, devi sapere che tutte le teorie scientifiche sono metafore. Sono tutte rappresentazioni della realtà, ma non la realtà. Tuttavia, la metafora delle neuroscienze sembra darci qualcosa in più, delle nuove informazioni sul funzionamento del cervello e anche della mente. Terzo, concentrati sulle funzioni. Se domani, oggi o ti è già capitato di leggere un articolo sulle neuroscienze, ecco, leggilo e soprattutto attento alle funzioni, cioè a quello che fa quella parte del cervello, a come la fa, e potresti davvero portarti a casa qualche piccola chicca sul tuo comportamento umano, sulla conoscenza in più, avere una conoscenza in più su te stesso. E ricordati che quando individuiamo delle funzioni, la cosa interessante è che le funzioni possono essere allenate. La maggior parte delle nostre funzioni cerebrali seguono quella regola della neuroplasticità, per cui ogni volta che scopri una funzione sappi che puoi migliorarla, puoi aumentarla o diminuirla. Se hai troppo di una funzione, ad esempio ti fai troppe seghe mentali, ecco, sappi che puoi anche diminuire quelle. Se invece pensi troppo poco, pensi di essere troppo istintivo, puoi aumentare il pensiero. So che sembra banale, ma funziona davvero in questo modo. Concentrati sulle funzioni. Bene ragazzi, lo so che non sono riuscito ad essere abbastanza esaustivo. Spero di averti affascinato un pochettino su questo tema, invitandoti non tanto a diventare un esperto di neuroscienze, ma ad evitare di buttare via un giornale o un articolo solo perché magari c'è citato qualche pezzo del cervello. Ovviamente c'è chi lo fa a sproposito, chi utilizza queste cose a sproposito, e sappi che all'interno dei fuffa coach è pieno. Giusto un mesetto fa guardavo proprio un video di un espertone di crescita personale italiano, di quali non ti posso dire il nome, però sappi che è molto famoso, pota, e questa persona quando inizia questo suo bellissimo video inizia dicendo, beh, eh ragazzi guardate che la psicologia sono tutte cavolate ancora con sta psicologia, e poi cosa fa? Parla della tripartizione del cervello, del cervello trino. Ecco questa che roba è? Questa è neuroscienza, le neuroscienze fanno parte in parte della psicologia, e utilizzare queste cose subito prima, anzi subito prima sputarci sopra, e poi dopo utilizzarle, ecco proprio è uno sputare nel piatto dove si mangia. Ecco ogni volta che un fuffa coach sputa sopra il piatto dove mangia, sappi che si sta contraddicendo. Questo vuol dire che è un cattivo coach? No, non vuol dire questo, magari è bravissimo a motivarti a fare le cose, però è un coach un po' ignorantello, questo lo deve assolutamente ammettere. Ok? Ragazzi ok, dopo quest'ultima, come potremmo chiamare, spallata al mondo del coaching. Ti invito come sempre a venire su iTunes, a mettere il tuo mi piace, ad aggiungermi su Snapchat, ad iscriverti alla mailing list per ricevere il quaderno degli esercizi, a iscriverti alla fan page di Gennaro Romagnoli su Facebook che ti consente di vedere le live. Anche per oggi è tutto, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da a Gennaro Romagnoli di psicologia neurolinguistica.net